In Sicilia, che area arancione, ci si può muovere liberamente all'interno del proprio comune, senza giustificare alcunché. L'autocertificazione è necessaria se ci si deve spostare al di fuori del proprio comune o della propria regione, ma anche di notte, dalle 23 alle 5. In questa fascia oraria, per uscire di casa, bisogna avere una ragione valida, salute, lavoro, motivi di comprovata urgenza. Sarà inoltre necessario indicare nel modulo di autocertificazione il proprio abituale domicilio, un contatto telefonico valido, di non essere sottoposto alla misura della quarantena, ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19, fatti salvi gli spostamenti disposti dall'autorità sanitaria, di essere consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale regolate dall'articolo 495 del codice di procedura penale. Il modulo è lo stesso che era stato predisposto in occasione del decreto Covid del 24 ottobre e può essere scaricato sul sito del Ministero dell'Interno. L'autodicharazione è comunque anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.